ben ritrovati amici di auto occasioni oggi super puntata e fari accesi su golden garage ci troviamo in strada carignano 54 a moncalieri e non poteva mancare denis defina ciao denis ciao elisa e un ben trovato tutti ci troviamo come sapete in un posto davvero esclusivo con un super professionista e qui trovate davvero auto sportive dagli anni 90 in poi ma anche moto quindi quattro ruote e due ruote assolutamente sì siamo tra le poche concessionarie che si sono impegnate nel poter gestire a 360 gradi il mondo dei motori qui da noi troverete moto particolarissime sul sito potrete già avere un accenno di ciò che trattiamo e altrettanto è valido per le auto auto particolari auto sportive e come diceva elisa dagli anni 90 ad oggi troverete davvero tantissima scelta so denis che vi siete specializzati su quattro marchi in particolare verissimo abbiamo deciso partendo dalle moto di specializzarci su harley e per quanto riguarda le auto ferrari porsche abarth ma troverete anche tanto altro e come dicevo prima sul sito golden garage punto eu troverete tutto ciò che abbiamo vostra disposizione oltre a pezzi unici qui da golden garage si trovano anche servizi unici assolutamente sì qua potrete permutare la vostra auto con la nostra moto e la vostra moto con la nostra auto è un servizio molto particolare aggraziato dal fatto che lo facciamo anche qualora abbiate da darci indietro un mezzo di valore superiore rispetto a quello che state valutando di acquistare in questo caso avrete l'opportunità o di finanziare il nuovo acquisto o di ricevere la differenza nell'immediato non solo questo abbiamo un altro servizio importantissimo che è quello del conto vendita qualora decidiate di realizzare il massimo del vostro veicolo avete l'opportunità di poterlo lasciare in sede qui da noi lo gestiremo come se fosse nostro e vi faremo realizzare il massimo della valutazione qui da golden garage oltre davvero a moto e auto troviamo anche dei veicoli ibridi come il quadro assolutamente sì per ibrido si intende che sono veicoli scooter da mobilità urbana tre e quattro ruote sono molto innovativi soprattutto a livello tecnologico molto sicuri per potersi muovere nelle strade cittadine e noi offriamo l'opportunità anche di poterli venire a provare prima di un eventuale acquisto quindi contattateci per avere ulteriori informazioni in ogni caso ricordo ancora una volta il sito golden garage punto u troverete le informazioni su come raggiungerci e foto caratteristiche descrizione e prezzi di tutti i veicoli che abbiamo a vostra disposizione quadro compresi oltre al sito e oltre a invitarvi a venire qui direttamente in concessionaria in strada carignano 54 moncaglieri vi ricordo anche che golden garage è molto attivo sui social quindi facebook ed instagram assolutamente sì non mi resta altro che salutarvi e aspettarvi numerosi io ringrazio denis e ringrazio tutti voi alla prossima puntata ciao ciao ciao